Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Quei due sul server, due con Rainbow Six Siege Ok, purtroppo l'altra estrazione che dovevamo fare, il proseguio ed è poi un altro gameplay Non siamo riusciti a farla perché è crashato il gioco È tutto molto bello, tutto molto lindo e pulito Io attualmente sono nei cessi Ah, mi stanno sparando! Ok, vado anch'io con il robottino Sì, sto cercando di trovare l'ostaggio il prima possibile Una volta trovato l'ostaggio possiamo agire Vado al primissimo pianissimo Quindi io rimango al piano terra? Sì, se vuoi sì È importantissimo cercare di... Ma che cazzo! Di provare a non farci uccidere Ok, forse l'ho trovato Bravo Forse sta un sacco di gente qua Se sta qua sono cazzi amari però Cioè qua dentro ce ne sono 3.000 Vai, vai Ti muovi tipo sorcio sotto le sedie Eh ma per forza Va bene andiamo... No, non andiamo a nessuna parte senza robottino Vuoi lanciarne un altro? Eh sì, per forza di cose Non ha senso andare alla cieca Non ha proprio senso così Probabilmente sta al primo piano a questo punto Guarda che c'è pure un piano... Ok, forse... C'è una parte puntellata qui Forse sta qui Io sono al piano interrato ma non credo Aspetta che risa... Madonna ma hanno piazzato le bombe dappertutto Ma tu vedi se si può Catroia Io non... Ma l'ho quasi beccato eh Non ho idea di dove cazzo sia l'ostaggio Pensavo di esserci arrivato ma così non è Hai idea di dove possa essere? No C'è una zona che è super protetta Eh ma non è quella Forse è qui dentro Eccolo Bella Ok Eh sì era qui dove c'era la... La puntellazione Allora potremmo... Passare Aspetta fammi vedere No ma non è tutto Potremmo passare Da questa finestra No è bloccata Da qui da fuori Ok da qui Dove siamo noi? Ok Ok sto seguendo anch'io sul monitor Ho capito Ok è presente? Sì Ok Possiamo passare di lato Perché praticamente poi siamo di fronte E da lì possiamo spottare un sacco di gente Allora Fa saltare il tutto Io mi metto da lontano E cerco di cecchinare la situazione Ok Piazza di là Non mi metto da lontano pure io Let's go Let's do it Pronto? It's time to fuck Bam Non c'è nessuno Occhio eh Occhio C'è un respiratore Mio Bella One shot one kill No one can hide from my sight Oh cazzarola Occhio 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 Morto Bella Ma non muoiono Chi ti sta sparando Chi ti sta sparando Chi ti sta sparando Che cattivone Cogli sta sparando Arg Grazie Vaffanculo E zitta Ho capito Praticamente se cambio mirino Succedono cose Ma sì Sì aspetta 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 Che la porta vicino a noi Occhio Occhio che ci sono le bombe dentro Lo so le sto sparando Lì Dai aia ce la facciamo Occhio Chi cazzo è Questo com'è morto Ma c'è sta uno che sembrava più Mi so cagato sotto Ci hanno buttato una pomoggio No l'ho buttata io Per confondere gli animi Perché secondo me Stanno tutti qua dietro Oh oh non vedo Non vedo Non vedo Mi serve aiuto Siamo in pericolo Stai facendo un sacco di danni Allora L'ostaggio Da che cazzo di parte lo portiamo fuori Che arma c'hai tu? Io? Eh C'ho un Fucile d'assalto silenziato Perché? No Come secondaria Perché se lo porti tu Ah aspetta aspetta Adesso ti dico Credo di avere una normale pistola del cazzo Adesso vediamo su Sì una normale pistola del cazzo Allora conviene Eventualmente proteggerci la fuga Ok Ce la facciamo? Lo prendo io allora dai Dove andiamo? Da dove passiamo? Aspetta 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 Non ho capito il percorso Usciamo davanti Da dove siamo entrati? Sì Via Aspetta che c'è gente Arrivo No di qua Di qua Di qua Beh c'è l'ospiratore Ispiratore Non ti preoccupare Oh cazzo Oh cazzo Devo mollare Devo mollare l'ostaggio Fermo là Fermo là Madonna la gente Non hai idea Non hai idea Il respiratore è dietro Sì lo so Allora Ho fatto una strage Oh Se c'è qualcuno dietro di noi Io muoio eh Tranquillo Dietro non c'è nessuno Allora dovrebbe esserci qualcuno davanti Che mi è sfuggito Dentro? No no davanti a noi Procedere con l'estrazione Vai vai tranquillo Io cerco di coprirti Proprio sul punto di estrazione Oh merda Va su ora Sul punto di estrazione Occhio eh Stai giù Stai basso Oh ce n'è uno Ce n'è uno davanti Ok beccato Ok l'ho ucciso con la pistolina Un altro Dai 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 che ce la facciamo No 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 Stai giù stai giù Io vado al punto di estrazione Bravo Buona Ok Cazzo Smettiti al riparo Dovremmo Ostaggio abbandonato Ok Bella ragazzi Bella Ragazzi grande gioco Grande gioco di squadra Meraviglioso risultato Pulito È stato difficile però eh È stato difficile Stazione di estaggio difficile Difficile veramente Abbiamo fatto una gran partita Ok va bene Grazie per averci seguito fin qui Se vi piace Fatecelo sapere E mi cascate le camera Proprio quando stavo dicendo Mettete like Mi raccomando Mettete tanti like Ci vediamo alla prossima missione Ciao